Più attenzione ai temi del laicato, della famiglia e della vita, confrontandosi con le sfide della cultura contemporanea. Per questo Papa Francesco istituisce un nuovo di castero dedicato. Marilena Pastore. Il di castero per i laici, la famiglia e la vita assumerà dal prossimo 1 settembre competenze e funzioni finora appartenuti al Pontificio Consiglio per i laici e al Pontificio Consiglio per la famiglia, con definitiva cessazione degli stessi Pontifici Consigli e quanto stabilisce la lettera apostolica Sedula Mater in forma di motu proprio, con cui si istituisce il nuovo di castero firmato da Papa Francesco lo scorso 15 agosto. La Chiesa Madre Premurosa, scrive il Papa nella lettera, ha da sempre, lungo i secoli, avuto cura e riguardo per i laici, la famiglia e la vita, manifestando l'amore del Salvatore misericordioso verso l'umanità. Noi stessi, avendo questo ben presente in ragione del nostro ufficio di pastore del greggio e del Signore, ci adoperiamo prontamente a disporre ogni cosa perché le ricchezze di Cristo si riversino appropriatamente con profusione tra i fedeli. A tal fine, dice Papa Francesco, provvediamo sollecitamente a che i di casteri della curia romana siano conformati alle situazioni del nostro tempo e si adattino alle necessità della Chiesa universale. In particolare, il pensiero si rivolge ai laici, alla famiglia e alla vita, a cui desideriamo offrire sostegno e aiuto perché siano testimonianza attiva del Vangelo del nostro tempo e espressione della bontà del Redentore. Non è questa però l'unica novità in tema di famiglia e vita. Approfondire e diffondere il Magistero della Chiesa su famiglie e su vita, confrontandosi con le sfide della cultura contemporanea, è il compito che Papa Francesco ha indicato all'Arcivescovo Vincenzo Paglia affidandogli l'incarico di Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e di Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia. Papa Francesco spiega che in occasione della riforma della curia romana mi è sembrato opportuno che anche le istituzioni poste a servizio della Santa Sede con l'attività di ricerca e formazione sui temi relativi a matrimonio, famiglia e vita procedano a un rinnovamento e a un ulteriore sviluppo per iscrivere la loro azione sempre più chiaramente nell'orizzonte della misericordia. Dal Concilio Vaticano II ad oggi, prosegue il Papa, il Magistero della Chiesa su tali temi si è sviluppato in maniera ampia e approfondita. È il recente sinodo sulla famiglia, con l'esortazione apostolica Moris Letizia ne ha ulteriormente allargato e approfondito i contenuti. È mia intenzione, dice ancora il Papa, che gli istituti posti sotto la tua guida, dice l'Arcivescovo Paglia, si impegnino in maniera rinnovata nell'approfondimento e nella diffusione del Magistero, confrontandosi con le sfide della cultura contemporanea. L'ambito di riflessione, siano le frontiere, anche nello studio teologico non venga mai meno la prospettiva pastorale e l'attenzione alle ferite dell'umanità. Il Papa esorta Paglia a occuparsi delle nuove sfide che concernono il valore della vita. Mi riferisco, dice Papa Bergoglio, ai diversi aspetti che riguardano la cura della dignità della persona umana nelle diverse età dell'esistenza. Il rispetto reciproco tra generi e generazioni, la difesa della dignità di ogni singolo essere umano, la promossione di una qualità della vita umana che integri il valore materiale e spirituale nella prospettiva di un'autentica ecologia umana che aiuti a ritrovare l'equilibrio originario della creazione tra la persona umana e l'intero universo. A questo scopo è importante favorire il dialogo cordiale e fattivo con altri istituti scientifici e centri accademici anche in ambito ecumenico o interreligioso, sia di ispirazione cristiana che di altre tradizioni culturali e religiose. Chinarsi sulle ferite dell'uomo per comprenderle, curarle e guarirle è compito di una Chiesa fiduciosa nella luce e nella forza di Cristo risorto, capace di affrontare anche i luoghi dell'attenzione del conflitto come un ospedale da campo che vive, annuncia e realizza la sua missione di salvezza e di guarigione, proprio laddove la vita degli individui è più minacciata dalle nuove culture della competizione dello scarto. Il pontefice ricorda a Paglia che le due istituzioni a lui affidate sono collegate con il di Castero per i laici, la famiglia e la vita.